Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto l'unboxing, le prime impressioni di un device, uno smartwatch, sotto i 40 euro. E posso già dirvi che non mi sarei mai aspettato così tanto a una cifra così bassa. Lo smartwatch in questione è della Aoki, non so bene come si pronunci, marca conosciuta molto bene, in particolar modo per quanto riguarda carica batterie, battery bank, cavetti in generale e sinceramente io non sapevo dell'esistenza di questo smartwatch. L'ho visto su Amazon a questa cifra e ho detto devo fare un video, devo provarlo assolutamente. Perché se con meno di 40 euro trovo un device che funziona, va bene, è performante, certo spero non abbia le stesse caratteristiche ed è uno da 200, 400, 500. Se però va quanto ho visto dalle recensioni Amazon, perché ha delle recensioni e le stelle altissime dei punteggi di chi l'ha comprato, sembra che abbia 5 stelle su 5, quindi comunque sia deve essere un qualcosa di valido, beh, non è male. Prima di tutto iscrivetevi al canale, cliccando qui sotto, è completamente gratuito, mi aiutate, fate in modo di supportarmi e che possa portare altri prodotti tipo questi, magari altri orologi, smartwatch o altri prodotti ancora a basso costo che possono essere interessanti per voi e magari trovano qualcosa di bello al giusto prezzo. Dopo la sigla, l'unboxing e le prime impressioni. Ed eccoci qua con l'unboxing. Dalla scatola non dice molto, a parte il nome del produttore, che è uno smartwatch, qua vedi un gioco in immagine e il codice del modello, che ve lo zoomo così lo potete leggere, modello LS02, nient'altro, non ci sono altre caratteristiche. Tiriamo fuori il prodotto dalla confezione, scatolina nera, molto minima, senza scritto nulla, e all'interno troviamo, in bella vista qua, l'orologio, protetto da questa pellicolina che ci spiega un po' come e cosa schiacciare per fare le varie cose, come vedete, mettiamo da parte, poi troviamo qua dentro, carica batterie, proprietario e magnetico, si collega dietro l'orologio per ricaricarlo, una batteria da 260 mAh, che su Amazon, dove l'ho comprato, c'è scritto che dichiarano un'autonomia addirittura di 20 giorni, poi vedremo con la prova effettiva se è così. un bigliettino di Oki e un manuale d'uso, nient'altro, la confezione la possiamo mettere da parte, carica batterie lo teniamo ancora un attimo qua perché può essere utile, prendiamo l'orologio e togliamo la pellicola. L'orologio in realtà mi è arrivato ieri e io l'ho già acceso e configurato e collegato al mio telefono con l'applicazione dedicata. L'applicazione dedicata si chiama Oki Fit. Aprendola entriamo all'interno dell'applicazione che poi vediamo dopo, ma vi dico già che personalmente la reputo veramente, veramente bella a livello estetico. Il device arriva con questo design, molto simile a uno che avete poco visto sul mio canale, il Venue SQ della Garmin, molto simile a un GTS 2 di Amazfit, molto simile all'Apple Watch, ma con il prezzo Neon Abilment 5, ma decisamente con caratteristiche migliori. Dietro troviamo la sensoristica per la rilevazione del battito cardiaco, non misura l'ossigeno ad oggi, cinturino standard da 20 mm che si può sostituire facilmente, facilmente intercambiabile. Ah, anche qua c'è scritto la capacità della batteria che vi dicevo prima. Troviamo nel cinturino, una cosa che io adoro e che addirittura ad esempio il GTS 2 non ha, ma questo sì, il pinnetto per bloccare il cinturino in silicone in modo che non vuoli via. Il cinturino in silicone è comodo, bello morbido, di quelli che però trattengono un po', vediamo se riesco a mettere a fuoco, lo sporco, vedete? L'ho messo ieri sera, l'ho dunto stanotte fino ad ora e sì, è già bello sporco. Trattiene molto molto lo sporco, però è veramente comodo. Qui sotto per la ricarica, vi dicevo, col connettore proprietario si attacca magneticamente e ricarica il device. Device che presenta un forfactor di questo tipo. Uno schermo LCD, non AMOLED ovviamente, di 1.4 pollici, 320x320 pixel la risoluzione. È IP68, ha una dimensione di 48x36 per uno spessore di solo 12 mm, pesa 38 grammi. Praticamente esattamente uguale al Venu che pesava 37 grammi, quindi un grammo di differenza. Il passo del cinturino è uguale al Venu, è molto molto simile al Venu anche come dimensioni generali questo device. Veramente bello secondo me a livello estetico. Questa è tutta tutta plastica, non c'è niente di ferro, il vetro è una gorilla glass, quanto dicono. E ora vediamo un po' l'interfaccia. L'interfaccia è questa, questa è la schermata principale dove ci sono le watch face, ovviamente personalizzabili. Tenendo premuto, ne troviamo qualche duna, poche, non ce ne sono altre da installare nell'applicazione. Queste abbiamo e queste ci deviamo tenere. E a me piace questa qua che ha parecchi dati. Bello che qua vediamo mercoledì, quindi già c'è l'italiano. Questa è una cosa importante. Dalla pagina principale, swipe verso il basso e troviamo delle scorciatoie dove bisogna regolare la luminosità, il non disturbare. Che può mettere anche automatico, quindi che magari inizia un'ora la sera e finisce un'altra ora la mattina. E in quella frangente di tempo lui non si illuminerà ruotando il polso, rimarrà sempre spento, quindi non darà fastidio di notte, anche perché l'illuminazione è anche al minimo e bella forte di questo orologio. Perché ad esempio adesso è al minimo ed è bella luminosa. Se vedete, ora vi faccio vedere l'illuminazione aumentandola, vedete, minimo, al massimo, guardate come spara. Bello, bello, luminoso. Poi troviamo le impostazioni, ricerca telefono e basta di questi toggle. Non sono personalizzabili, questo è un peccato. Poi scorrendo dal basso verso l'alto entriamo in tutto ciò che è il menu dell'orologio. Status, battiti per minuto, sport, può monitorare fino a 12 sport, tempo è il meteo, sospensione sarebbe il sonno, come ho dormito, si chiama sospensione, c'è che la traduzione non è al massimo. Avvisi sono le notifiche, notifica tutto molto bene. Per le notifiche che poi vi farò vedere nell'applicazione, essendo Aoki un marco cinese, diciamo vi dico già che Telegram non lo vedete come applicazione, lo notifica ma non avete l'icona. Per le applicazioni che Aoki, comunque la Cina, ritiene valide, vedete oltre che la notifica proprio l'iconcina inerente all'applicazione che ha notificato. Whatsapp, il simbolo mio Whatsapp, vedete questa è consulta almeno un'applicazione del menu della scuola di mia figlia ad esempio che non è ovviamente conosciuta e viene quel simbolino che avete visto che non è il simbolo dell'applicazione, questa è l'unica cosa. Poi troviamo il controllo della musica perché può controllare la musica anche del device che è riproduzione, play, pausa, avanti e indietro. Di più sarebbe cronometro, contro la rovescia, trova il telefono, allenamento e respirazione, questi sono il di più. Poi in impostazioni troviamo il quadrante orologico che avete già visto prima, la luminosità che avete visto prima, l'informazione, spegni e ripristina, nient'altro, nulla di più. Anche questo menu non è personalizzabile, cioè così è, così ve lo tenete. Tutte le volte che si entra in un menu, sopra comunque va sempre a vedere se è connesso l'orologio, l'ora e la batteria, quindi è molto comodo, fatto bene. Torniamo nella pagina principale, scorrendo da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, trovate dei widget. Questi anche non sono personalizzabili, cioè se io tengo schiacciato non succede una mazza. Quindi così sono e così ve li tenete. Il primo da destra sono i passi fatti finora, i chilometri, le calorie bruciate, se ci cliccate non succede nient'altro. Poi troviamo i battiti, se ci cliccate invece di vedere il grafico dei battiti misurati finora, fatto bene anche questo. Poi qua il sonno, monitora il sonno, secondo me la monitora bene perché l'ho provato solo una volta, ma stanotte mi ha beccato precisamente l'ora che sono andato a dormire, l'ora che mi sono svegliato senza sbagliare di un minuto, secondo me, perché mi ricordo quando ho spento la tv, che più o meno era qualche minuto prima di quello che mi ha segnato lui, il tempo di addormentarsi, secondo me ha beccato in pieno. Qua il meteo, che non c'è scritto che città è, però si sincronizza col GPS del cellulare perché lui non ha il GPS. Qua troviamo, fai una pausa per le respirazioni, per il rilassamento, quelle cose lì. Spegnendo, schiacciando questo si accende e si spegne lo schermo, oltre che il movimento del polso che è precisissimo. Non mi è mai capitato di ruotare il polso e che lui non si accendesse, è impressionante, precisissimo. Tenendolo schiacciato invece si spegne il device, vedete, spegnere e diciamoli di no adesso. Gli sport, per gli sport si va qua, sono 12, ogni sport si può far partire da qui ma non è personalizzabile nulla. La schermata che c'è è quella, appunto. Essendo impermeabile IP68 può monitorare anche il nuoto. Se noi facciamo partire ad esempio uno degli allenamenti, corsa indoor, lui fa il controllo rovescia, inizia il conteggio dell'allenamento, c'è il timer, lo abbiamo sempre l'ora visibile, la percentuale della batteria si è connesso, i battiti e i chilometri all'uso, non è neanche malaccio, però non c'è nient'altro. C'è in pausa, stop e fine. Noi mettiamo stop, non salverà nulla ovviamente perché è durata 0 secondi e quindi è così. Anche questi belli, poi lo proverò più nel dettaglio, vi farò sapere. Il GPS lo prendo ovviamente dal cellulare perché lui internamente non ce l'ha. Come unboxing e prima impressione di questo device direi che è tutto perché se no mi prolungo troppo e alla fine diventa una recensione. Vi faccio solo dare un'occhiata rapida all'applicazione che secondo me l'applicazione è veramente bella esteticamente. Questa si presenta così, schermata principale dove ci saluta, c'è il nostro nome perché ci siamo registrati prima con i nostri dati, ci si registra con il numero di cellulare, molto rapido e veloce e la connessione all'orologio è fantastica. Ci ho messo 30 secondi, questo con iPhone 12, poi proverò anche con Android e nella recensione vi sarò sapere come funziona con Android. Qua ci sono i passi, ho fatto molto bene, i chilometri, le calorie bruciate e quanto abbiamo raggiunto dell'obiettivo, il 14%, l'obiettivo 8000 passi e ne abbiamo fatti 1000. Dentro ho vedere anche le ore alle quali si è fatto questi passi, che è fatta veramente bene secondo me come applicazione. Poi qua il battito con il grafico, come vi avevo detto, troviamo il battito, la frequenza cardiaca minima, la frequenza cardiaca media, la massima, il sonno con tanto di ore dormite, ore sveglio, sonno leggero, sonno profondo. Entrando dice l'orario al quale ci si è addormentati e l'orario del risveglio. Io vi posso garantire che secondo me ha beccato il risveglio, magari mi sono svegliato la sveglia alle 7, in realtà poi qualche minuto perché si accorgesse che mi sono svegliato e alzato, però vedete che ha messo il rosso la bacchetta rossa esattamente all'ora in cui è suonata la sveglia, perfetto. Quindi anche su questo io per ora la prima notte è unica e mi sono trovato bene. Poi attività, come dicevamo, lui il GPS lo prende del loro lodo, del telefono, quindi da qua possiamo far partire le attività che poi monitoreremo anche al device perché si connette. Qua invece nell'ultima pagina c'è dispositivi, l'unico dispositivo che ho è questo, fa vedere il numero seriale del dispositivo, che modello è, la batteria residua, se vogliamo aggiungere un altro, poi entrando dentro vediamo l'immagine del dispositivo, vediamo poi tutte le cose che si possono fare. Si può decidere di ricevere le chiamate, quindi di attivarle, la sveglia si può metterla qua e vibrerà poi sull'orologio, ma si può impostare e scegliere solo da applicazione, frequenza cardiaca se automatica o manuale, ovviamente automatica consuma più batteria rispetto a manuale, che lo facciamo solo quando andiamo all'applicazione battito cardiaco, ma batteria di chiara 20 giorni, vedremo, non credo durerà così tanto, però ne durasse anche solo che la metà sarebbe un buon risultato, considerando sempre che per avere un device di meno di 40 euro, 39 euro su Amazon, poi vi lascio il link in descrizione e tutto, perché è spettacolo quello. Rotazione del polso per attivare lo schermo, questo l'ho tolto perché io l'odio, l'avviso di sedentarietà, notifiche, vi facevo vedere che queste sono le applicazioni che la Aoki ritiene esistenti, ma non c'è Telegram, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Tweet, Whatsapp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Line, Viber, Skype, Kakao, Talk, questo e altri, se si clicca altri notifica tutto, qualunque applicazione, comunque notifica arriva sul device, lui la notifica. Qua troviamo invece la modalità non disturbare, come vi dicevo prima, che la setti da qua all'orario, io ho settato quest'orario durante il quale non si illumina l'orologio da solo e non mi disturba, il tempo di, la durata dell'illuminazione dell'orologio, io ho messo 5 secondi, perché non ha senso di più, intanto il tempo per vedere l'orologio, la notifica o l'ora, il formato dell'ora, basta. Per la prima impressione è tutto, direi già quasi una recensione, poi vi porto una recensione più dettagliata, dopo averlo provato un po', per sapervi dire come funziona anche con dispositivi Android, nello specifico sarà provato e abbinato con l'S21 di Samsung, quindi uno degli ultimi modelli Android, secondo me ottimo attualmente sul commercio, e vi dirò anche come monitora le attività, farò qualche prova di corsa interna, corsa esterna se riesco in base a un po' al tempo, e vi darò poi il mio parere definitivo. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, e ci vediamo al prossimo video. Grazie.